Trova qualcuno che ti aiuti a non perdere di vista la realtà. Nessuno si è fatto da sé, tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuta a non perdere di vista la realtà o le realtà della parola di Dio scritta nella Bibbia. La fede è certezza di cose che si sperano, dice la Bibbia. Nel nostro cammino di fede abbiamo bisogno di un mentore, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti e ci indichi la strada, qualcuno che ne sa più di noi perché nessuno si è fatto da sé, non pensare che sei il tarzan della situazione, io capisco tutto, io capisco tutto, assolutamente. Hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a non perdere le realtà della parola di Dio, le realtà della verità, le realtà della sana dottrina, le realtà della vita di fede. Hai bisogno di qualcuno e questo dipende da te, dipende da te perché quando il discepolo è pronto appare il maestro.